Ciao a tutti, eccoci al nostro primo Natale insieme. A te che stai guardando questo video, vorrei dare alcuni suggerimenti per un regalo di Natale speciale. Al tuo nemico perdono, al tuo avversario tolleranza, ad un amico il tuo cuore, a tutti la carità, ad ogni bambino un buon esempio, a te stesso rispetto. Buon Natale! Auguri! Se vi sono piaciuti i miei suggerimenti, condivideteli. Sarà un Natale migliore. Grazie! Grazie! Grazie!